L'esperienza di teatro spettacolo ormai conosciuta nel Terramano e non solo, direi, l'esperienza nei parchi della Notte delle Paure diventa un film? Sì, io sono praticamente felice e soddisfatto di questo evento, anche perché diciamo che a questo punto, dopo 23 anni, la Notte delle Paure, oltre ad avere un respiro territoriale, locale, provinciale, regionale, a questo punto diventa nazionale ed internazionale. Per questi 23 anni abbiamo lavorato con passione in questo progetto. La Notte delle Paure nasce proprio come il recupero di materiale orale dei nostri nonni, dei nostri sbisnonni, e nel tempo l'abbiamo voluto riportare sui nostri boschi, quindi con il regista e soprattutto con il laboratorio teatrale, che diciamo è una nostra chicca in questo senso, perché si lavora sul posto, si conoscono i posti, e si ambientano le scene sui posti e abbiamo riportato le storie dei nostri avi, dei nostri antenati. Quindi siamo contentissimi di questo epilogo che abbiamo raggiunto fino adesso. Oggi l'anteprima, poi sabato 30 luglio, la proiezione nella sala polifunzionale della provincia di Teramo. Parliamo del film. Il film è un documentario girato nel 2014, per appunto il Festival delle Paure, girato da Matteo Cozzi e Valerio Serafini, su un'esperienza teatrale di sinestesia teatro di Gianluca Bondi, di regista di questa compagnia che è Gianluca Bondi. Il documentario parte con una prima presentazione delle diverse componenti di questo laboratorio, dello spettacolo, e poi segue un intreccio tra la preparazione dello spettacolo e lo spettacolo stesso. In Fausto Pianeta perché? Allora, in Fausto Pianeta perché, innanzitutto, il nome che compare per primo è Faust, quindi il documentario e lo spettacolo riprendono l'opera di Faust di Goethe.